Sai che esistono piante che te purano l'aria? Una di queste è il potos. Ecco come coltivarlo in acqua in 30 secondi. Avrai bisogno di una piantina, di un vecchio barattolo di vetro e dell'argilla espansa. Per prima cosa bagna l'argilla, scola l'acqua in eccesso e lasciala riposare. Ora svasa il potos e libera le radici della terra. Mi raccomando qui, estrema delicatezza. Iniziamo il rinvaso. Nel barattolo metti l'argilla, poi la pianta e fai cadere le altre palline di argilla per riempire. Con un po' di scotch carta, segna il livello di circa 4 cm e innaffia. Il nostro potos è pronto per essere coltivato. Ma quindi a cosa serve il segnetto? L'acqua non deve mai scendere sotto questo livello. Quando sarà arrivata qui, sarà il momento di dar da bere alla piantina. Posiziona il potos, noi l'abbiamo chiamato Gino, in una zona luminosa, ma lontano dal sole diretto.